Per l'ospedale psichiatrico giudiziario non è la prima volta che entrano le telecamere per realizzare un film. Ha anche una valenza terapeutica, un percorso nuovo terapeutico, quello di fare cinema coinvolgendo gli stessi ospiti? Assolutamente sì, assolutamente sì. Il cinema ha una valenza terapeutica, il cinema è di per sé un percorso terapeutico riabilitativo. Però il cinema è anche qualcosa in più, il cinema è trasmissione di emozioni, di sentimenti e vuole essere, questo film in particolare Le Stanze Aperte, vuole essere un messaggio anche alla società, cioè di favorire con apertura mentale. In questo il cinema, in particolare questo film, aiuta.